Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo mio canale oggi siamo qua per giocare un paio di partite di campionato quello di Coppi Spezia non lo fate vedere perché intanto erano che abbiamo perso tutte e due e poi veramente c'è buttavo giù i santi credo e oggi giochiamo qualche partita di campionato, abbiamo convinto il mamma, sono più forte non mi aspetta nulla di che, abbiamo fatto qualche cambio di formazione andiamo subito al campo raga, tanto sofferso e forza parlando not depressing ovviamente il nostro amico amato soy mamma, essere maviotero clamorosi maviosi maviosi ovvero fate una grande cosa Knutsen Provano a andare al numero 3, seguite, provo al numero 5 con Mavriax, ancora il 3, di X, di X contro il Pinomago, che può bloccarlo e non lo fa, Toivonen, attenzione, Toivonen, grande scambio, di Ostrom, di Ocic, niente, poi del Pinomago, per i sali, P.S., ehi, Boris, apri bene il Mavriax, ma apri il Mavri, non è fuori tuo, vabbè, comunque, iscrivetevi al canale, e attivate la campanellina per questo video, con tutti i vostri amici, ma, Berget, l'ha detto cosa, Berget, berger per che non sono interessato non sono maia però mio dio attenzione al mamma che fa gestire un po' la palla grande palla fuori gioco ok fuori gioco non male caccia mamma su vita il mio figlio su vita da c'è veramente da zero in pace la pizzerata è piena mano che trova in cartuccia comunque attenzione a tiro attenzione a tutto perchè non è stato svantaggio sto sesso non convince nelle due partite che non vi ho fatto vedere abbiamo veramente giocato malissimo troppo occasioni sprecate anche tante scoppine ovviamente c'è l'altra parte di ex palla ottima fuori gioco un altro fuori gioco fischiato ci è andato anche bene c'è perchè veramente sono andato fin troppo bene l'ultimo con lui se cambiare un po' il centri campo tra pallone appoggia per subita 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 prova a metterlo dentro non è male niente tanti cristian corso non appoggia l'ultimo partita strepitosa di ex non 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 ancora fuori gioco non 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 c'è anche idiota c'è il che c'è ma comunque te che mette in caccia bianco a rientrare il cross incredibile tira il numero 17 e allora ancora loro che provano ad andare c'è Colle che stoppa mette giù sempre Holberg un passaggio bellissimo e molto importante per il compagno adesso è qua su Vita, su Vita, su Vita su Vita, vale buona, sai in te a conseguire per motri sul tiro vado con il portiere ed è, ed era fallo, forse Mavris che purtroppo non ha un grande tiro anche qua stiamo sprecando veramente tantissimo che c'è con Sede, Sede, Sede Sede, Sede, Sede il tiro è sotto la fucilata, grande parata a tutto il bambino adesso stiamo spingendo la Zercross si percorre Mavris, Mavris Mavris, Mavris non passa, non passa, cavolo l'olimpallo scriptato in realtà non è mai scriptato attenzione a Berghet arriva Berghet Berghet per Rakit per Rakit per il compagno per Christiansen Toivonen Toivonen ancora Toivonen che momento Toivonen è proprio l'attaccante che ci servirebbe mazzo, mazzo micro dentro tro ok Cesena è veramente tanta fortuna in questa partita mettiamo almeno 5 gol minimo Djokic grande palla Saeed Saeed si infila Saeed grande palla mazzo 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 e' da dimenticare anche perché nessuno era leo sennò sarebbe stato un bel cross ma il Malmo è finita ok tra tempo giunto al termine con il risultato che è 1-0 per i per i due cambi semplici oggi fuori su Gita dentro Berghet vorremmo dare spazio a Machilang dare questa mossa dai i giovani provenienti dalla primavera adesso abbiamo il budget per finalmente accogliere qualcuno alla primavera attenzione qua loro che provano ad andare attenzione no troppo spazio ce la saliamo in qualche modo il mio mago chiude tutto macchina in prova niente ancora loro no 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 ci sono le tue che non ce l'hanno forse ma allora qua ci vorrà un po' ma allora sto capo lo so lo so che è passato ma allora questo però dovrebbe andare da un'altra parte e non va mica qua allora vediamo vabbè proviamo a tenerlo un po' così ma attenzione qua rimane da oh mio dio invia metti giù grande e mavra se serve il compagno in qualche modo vediamo che c'è vittorio 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 però mi vittorio io Grazie a tutti. 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 No, 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 no. Grazie a tutti. 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 se... abbiamo abbiamo... che... 61, è impossibile... un'altra... bella... veramente... ... ... ... ... ... ... ... ...